Il cliente è momentaneamente occupato, se gli possa fare. Premi 1 per cancellare le tue prospettive. Premine 2 per ascoltare tutti i tuoi rimorsi. Premine 3 per archiviare i dubbi già presenti. Oppure spingi cancelletto per uscire di qui. Scusami, non è questa l'ora di chiamare. So che è la tua vita piena di cose da fare. Da quando ti ho visto che piangevi in coda al semaforo, Ho capito di aver sbagliato, ma il vetro era appannato. In un attimo ho pensato, che ti avrei riconquistato. Ogni attimo che ci ha unito, ogni passo è un infinito. E' una forma di furia, mi spinge fino a te. Una forma di furia, senza sonno instabile. Accarezzo le tue foto, che tappezzano la stanza. Il bisogno di mangiarti, mi fa scivolare in te. Dentro di te, dentro ai tuoi odori. Non preoccuparti per i vestiti, li ho già messi nel mio armadio. Il cane ha tentato di attaccarmi entrando. Non è stato facile calmarlo. Ti ho aspettato sul lavoro, fino a quando mi hai incacciato. Non ti devi preoccupare, ce ne sono di migliori. Solo che volevo dirti, a più piano il mio regalo. Non volevo esagerare, ma c'è il rischio che ti ustioni. Una forma di furia, mi sibila nel teschio. Una forma di furia, ha sbaccato il tuo specchio. Una forma di furia, mentre ululo il mio amore. Una forma di furia, mi ricorda il tuo sapore. Un'altra forma di furia, mi ricorda il tuo sapore. Grazie a tutti